Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, come il nostro solito troviamo tre argomenti in questo nostro incontro, il primo argomento è la terza variazione di bilancio che è stata approvata a maggioranza, poi invece festeggeremo la nuova Presidente del Parlamento degli studenti che si è insediato qualche giorno fa e da Bruxelles arriva il Comitato Europeo delle Regioni e le politiche di concorrenza dell'Unione Europea con la 158esima sessione plenaria aperta con un ricordo alle vittime dell'alluvione in Toscana, ovviamente come relatore. C'era il nostro Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il primo argomento quindi riguarda il Consiglio regionale della Toscana e l'approvazione del Consiglio, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale e la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, gli interventi normativi collegati. Gli atti che sono stati integrati con un maxi emendamento presentato dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni sono passati con il voto favorevole del Partito Democratico e di Italia Viva e il voto contrario delle opposizioni. Sono state respinte le proposte di risoluzione presentate dal gruppo della Lega, l'ordine del giorno e emendamenti di Lega Fratelli Italia alla terza variazione di bilancio e poi su alcuni articoli della proposta di legge 224 sugli interventi normativi collegati alla terza variazione di bilancio il Consigliere regionale del Partito Democratico Gianni Anselmi ha deciso di astenersi. Ma ascoltiamo che cose è avvenuto in aula, quelli che sono anche i punti cardine della variazione di bilancio, il Presidente della Regione Toscana e poi i consiglieri. Una variazione è quella che viene licenziata dal Consiglio regionale che tocca alcuni aspetti fondamentali nel governo dei territori della Regione Toscana. Da una parte, come spesso accade con le variazioni di bilancio, soprattutto con la terza variazione di bilancio, si interviene nel settore della cultura, con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo. Ma non mancano anche importanti risorse che sono destinati ad eventi culturali del nostro territorio regionale come il Carnevale di Viareggio o il Festival Pucciniano. Si conferma anche il contributo di 1 milione e 100 mila euro per il Teatro del Maggio Fiorentino. Ci sono poi risorse significative che sono destinate alla scuola. In particolar modo 500 mila euro vanno ad integrare le risorse per il diritto allo studio e sono 600 mila euro i contributi che vengono destinati alle scuole materne non statali. Ci sono poi tutta una serie di misure particolari che riguardano i singoli territori della Toscana e che vanno a sostegno di comuni ed altri enti locali per interventi che vanno dalla messa in sicurezza del territorio all'edilizia scolastica fino ad arrivare ad alcuni interventi puntuali inerenti all'edilizia sanitaria. A tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno e quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal fondo di solidarietà che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in inginere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'endito in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale in cui lavoreremo in questo mese perché noi vogliamo allargare quello che sono questi ristori ai cittadini e alle imprese non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato, a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile, a chi ha avuto danni strutturali seri alle proprie mobili che sia imprese o che sia abitazione. D'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al governo che faccia velocemente la propria parte che metta tutte le risorse che servono e poi l'altro appello che voglio fare è di evitare tutta la discussione rispetto al commissario per la ricostruzione. Il Presidente Gianni, lo stiamo vedendo in questi giorni, sta gestendo in maniera positiva, molto positiva la fase emergenziale e allora al governo chiedo che il Presidente Gianni sia anche il commissario per la ricostruzione, che queste risorse arrivino presto e che possa lavorare per dare risposte a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Non è il tempo delle polemiche, è il tempo di lavorare tutti insieme perché cittadini e imprese hanno bisogno di risposte concrete. Nella prima seduta utile, che era quella di oggi, nella variazione al bilancio, all'interno della quale poteva esserci una risposta concreta da parte della Regione Toscana, ci siamo resi conto che le uniche risposte concrete sono quelle legate ai carnevali, alle feste del Grillo, alle ricorrenze di Paese, al recupero degli edifici storici, alla festa di Paese, alle fasce tricolori, cioè a tutto ciò che riguarda la promozione, la cultura, il territorio, la valorizzazione degli enti, magari qualche taglio del nastro alla presenza del Presidente Gianni, ma non c'è un euro sul fatto più grave che è successo in questa Regione negli ultimi 60 anni, nemmeno paragonabile all'alluvione in Firenze. I danni sono incalcolabili. Lo studio dell'IRPET ci dice 2 miliardi e 100, molto probabilmente i danni saranno 4 miliardi di euro. Tenete conto che il paragone sull'Emilia Romagna sono 8 miliardi di euro. In quel distretto alluvionato c'è il 35% delle aziende della Toscana e il 40% del fatturato per quanto riguarda i nostri distretti industriali e c'è il 65% dell'export toscano delle nostre imprese. Cosa pensa di fare la sinistra? Di venire in Consiglio regionale e di portare una mozione. Le mozioni lasciamo lì ai consiglieri di opposizione, molte volte ce le bocciano, lasciamo lì ai consiglieri circoscrizionali. Sugli atti concreti si misura la capacità di fare governo e sugli atti concreti, soprattutto quelli emergenziali, si misura la capacità di dare risposte della politica. Io penso che l'unica cosa che dovrebbero fare è rassegnare le proprie dimissioni e mandarci al voto domani mattina, rassegnare le dimissioni della Giunta e del Governatore che vengano a prendere in giro i toscani e le toscane dove ci sono 8 morti. E' un'economia intera, in crisi, a presentarci una mozione. Siamo abituati come consiglieri regionali, purtroppo, in questa legislatura, a essere spesso presi in giro dal Presidente Gianni, ma non accettiamo che in questo caso a essere presi in giro siano i cittadini toscani, le imprese toscane, i comuni alluvionati. Anche quest'oggi è venuto in Consiglio regionale, come centrodestra avevamo presentato una serie di emendamenti alla terza variazione di bilancio di un importo circa di 10 milioni, e è venuto in Consiglio regionale a dirci voi ci chiedete 10 milioni, ecco, noi ne mettiamo sul piatto 25 milioni. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti, essendo felici, perché noi eravamo felici, del fatto che il Governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono, sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Siamo consapevoli che sarebbe stato stupido dire prendete tutti e 30 milioni delle bilanze, mettiamo gli alluvionati, l'avremmo potuto fare e fare della demagogia, ma in maniera seria abbiamo studiato la modalità di creare un fondo parallelo a quello nazionale. Abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili, perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10, quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste. Va studiato in base alle possibilità di spesa, perché capiamo bene che è un fondo che dovrebbe essere speso da oggi al 31 dicembre, quindi può darsi anche che 10 milioni rischierebbero di non essere spesi tutti e 10, quindi magari doveva essere semplicemente un'integrazione. A cosa servivano questi soldi? Servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate, perché i 5 milioni stanziati, ricordiamolo e sottolineiamolo, dal governo nazionale alla regione toscana fino ad oggi, servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile. Quindi, se tu hai perso l'automobile, la moto, il garage, la taverna, la pertinenza di casa, non sei ristorato. Quindi il nostro fondo andava ad integrare il fondo nazionale per andare a dare un ristoro a chi aveva perso parte della propria abitazione, a chi aveva perso il veicolo con il quale va a lavoro la mattina. Lasciamo da parte i lavori d'aula e andiamo a festeggiare l'insediamento e la votazione del nuovo presidente del Parlamento degli studenti che è avvenuto lo scorso 24 di novembre. Sofia Canovaro, dell'Istituto Statale di Istruzione Forese di Piombino, eletta al secondo turno con 36 voti dopo essere andata al ballottaggio con Giulia Paolercio della Cicognini di Prato. Ricordiamo che il Parlamento regionale degli studenti con la legge 34 del 2011, una legge regionale, resta in carica a due anni e è composto da 60 membri. Il Parlamento elabora proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse e di attualità nel mondo giovanile. Quindi facciamo anche un buon lavoro a questi ragazzi, conosciamo la Presidente, introdotta ovviamente dal Presidente del Consiglio regionale. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione. È un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova Presidente Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno. Ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi. Sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. E ci spostiamo da Firenze alla Toscana fino a Bruxelles. L'offrire alle imprese i mercati competitivi e dinamici salvare un'azienda in crisi, tutelare i consumatori sono tutte le questioni che dipendono dalle politiche di concorrenza dell'Unione Europea. Si è tenuta la sessione plenaria la 158esima del Comitato Europeo delle Regioni, si è riunita a Bruxelles e ha approvato all'unanimità il parere sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza. Vi diciamo questo perché è stato un lavoro intenso e approfondito portato avanti dal relatore che è il nostro Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La cosa importante è che la 158esima sessione è stata aperta con ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana un mese fa ed è già stato attivato il Fondo di Solidarietà Europeo. Ascoltiamo il Presidente Mazzeo. Non era innanzitutto scontato che venisse votato da tutti, ringrazio tutte le forze politiche e soprattutto tutti gli stati. noi abbiamo una necessità. L'Europa è più forte se riesce a tenere tutti insieme. Evidentemente dopo quello che è accaduto in Ucraina dopo la pandemia si è deciso un po' di rendere più flessibili le norme sugli aiuti di Stato e questo ha messo in difficoltà chi aveva meno possibilità. Oggi parlare di concorrenza e di aiuti di Stato sembra parlare di qualcosa che è lontano dalle vite delle persone. Invece vuol dire tanto perché se un'azienda ha più aiuti di Stato può concorrere nel mercato interno in maniera migliore di altre e questo vuol dire perdere posti di lavoro. Il nostro obiettivo è che l'Europa cresca tutti insieme e abbiamo chiesto alla Commissione proprio pian piano di tornare indietro di ricostruirle quelle condizioni di equilibrio perché una buona concorrenza vuol dire offrire ai cittadini servizi migliori soluzioni migliori e dare più opportunità. Ecco perché poi alla fine tutti hanno deciso di sostenere il parere e sono orgoglioso di questo. Presidente è arrivata la valutazione preliminare positiva della Commissione Europea per la quarta rata del PNRR in Italia a 16 miliardi e mezzo che arriveranno. Guardate noi abbiamo una necessità fare in modo di andare il più velocemente possibili. Certo se guardo la regione toscana penso che il nostro progetto bandiera è quello che riguarda il dissesto idrogeologico e questo è un tema che sentiamo molto in queste settimane in Toscana il governo ha deciso di toglierlo così come di non finanziare le case di comunità ecco ora che il governo si è fatto carico italiano della scelta finale del progetto del PNR correre il più velocemente possibile darci le risorse noi siamo una regione che è la prima regione d'Europa nella capacità di saper spendere i fondi europei abbiamo e vogliamo solo la possibilità di poterlo fare perché vogliamo offrire servizi migliori ai cittadini vogliamo avvicinare l'Europa ai cittadini e far capire in un momento di difficoltà l'Europa c'è non è semplice qui c'è una dialettica tra governo e regioni molto importante ma noi in questa direzione stiamo lavorando ecco perché io ho fatto oggi una proposta incontrando sia l'ambasciatore sia il presidente Cordeiro la proposta di non pensare soltanto quando accade un evento climatico come quello che è accaduto in Toscana di cosa facciamo dopo oggi i fondi europei non permettono non c'è un fondo europeo che finanzi gli interventi contro il dissesto idrogeologico quindi io a me farebbe piacere che le politiche di coesione prevedessero al proprio interno un fondo per sostenere queste iniziative ho accolto con piacere il sostegno della proposta del presidente Cordeiro lo stesso ha fatto l'ambasciatore Celeste speriamo che nella contrattazione il lavoro ci sarà per i prossimi anni si riescano a dare risposte anche in questo senso ed è anche l'ultimo argomento che abbiamo trattato in questo appuntamento con Dentro il Consiglio che si rinnova tra sette giorni vi ricordo comunque per tutte le informazioni le delucidazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it vi aspetto sempre qua come detto tra sette giorni Dentro il Consiglio www.inconsiglio.it